Oggi con le nostre telecamere a Sant'Agata di Puglia, dove ha vinto Pietro Bove, nuovo sindaco di Sant'Agata, alla fine i sant'agatesi, sindaco, hanno premiato la continuità. La continuità, hanno premiato l'operatività, la fattività, la competenza e hanno premiato il nostro progetto che abbiamo proposto in questa campagna elettorale. Da dove si riprenderà a lavorare, sindaco? Innanzitutto si partirà nel fare in modo di creare nuova occupazione, perché la vera sfida è far sì che i giovani restino a Sant'Agata. Solo con la presenza permanente dei giovani, questi nostri piccoli centri possono avere una continuità vivace e viva. Qualche proposta concreta per frenare lo spopolamento ce l'ha? Allora, innanzitutto ospitare nuovi imprenditori ed insediarli giù nell'area degli insediamenti produttivi, tant'è ci abbiamo già due imprenditori che faranno decolare il loro progetto a breve. Dopodiché incentivare gli insediamenti degli imprenditori nella nostra area artigianale ed industriale e creare nuova occupazione sia nel settore del turismo, in cui questa amministrazione crede tantissimo, ma anche nel settore dei servizi. L'eolico, visto che Sant'Agata ha sempre avuto a che fare con l'eolico? Allora, per quanto riguarda la promozione o creare opportunità dello sviluppo delle energie rinnovabili, è un tema sicuramente che è sempre attuale, però questo tema va trattato compatibilmente con le saturazioni dei singoli territori. Sant'Agata si trova al centro di un'interessante crocevia tra tre regioni, Puglia, Campania e Basilicata. Lei ha sempre sposato un progetto culturale che finalmente ora può essere messo in atto. Ce lo vuole descrivere? Certo, il progetto culturale è quello di valorizzare i nostri territori da un punto di vista anche artistico. Se pensiamo che in questa micro area della provincia di Foggia, anche della Campania, ci abbiamo località come Deliceto, in particolar modo il Convento della Consolazione che ha ospitato Sant'Alfonso dei Liguori, dove la tradizione vuole che lì sia stata composta la canzone più cantata e più antica di tutti i tempi nel mondo, Tu scendi dalle stelle. Subito dopo Ascoli Satriano che ha dato i Natali all'attore Michele Placido. E ancora Rocchetta Sant'Antonio con la scrittrice Maria Teresa di Lascia. La vicinissima Trevico in Campania che ha dato i Natali ad Ettore Scola e Sant'Agata di Puglia stessa che ha dato i Natali al nostro Tony Sant'Agata possono costituire veramente un presupposto di rilancio dell'arte e della cultura in questa parte del territorio della Capitanata.